Presidente Zelensky, che voglio ringraziare per la sua visita molto importante, sono davvero felice che sia qui, sono felice che sia stato accolto oggi a Roma a meno di tre mesi dalla mia visita a Kiev, accolto con affetto, accolto con stima a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella che il Presidente Zelensky ha incontrato questa mattina, il Presidente della Repubblica come voi sapete dai primissimi giorni dell'invasione russa ha rappresentato in ogni sede istituzionale possibile il chiarissimo posizionamento dell'Italia a fianco dei nostri alleati a sostegno del popolo ucraino, il ritmo che abbiamo impresso alle relazioni tra Italia e Ucraina testimonia l'impegno, l'importanza che attribuiamo a un rapporto che è importante sì per le nostre nazioni ma importante per la comunità internazionale nel suo complesso, per la storia europea, per tutti i popoli che amano la libertà. A fine febbraio io sono stata a Kiev dove tra le altre cose mi ero impegnata a ospitare una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, noi abbiamo realizzato lo scorso 26 questa grande conferenza che ha visto la partecipazione di oltre 600 tra le migliori aziende italiane per dimostrare che la nostra nazione intende svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi di ricostruzione economica dell'Ucraina ma ancora di più per dimostrare che noi scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Oggi il mio amico Volodymyr Zelensky è qui e questo è a sua volta un segno di un'Ucraina che scommette sul futuro di un'Italia protagonista in un avvenire comune nella prosperità come dimostra il fatto che Roma è la prima tappa di questa visita europea del Presidente Zelensky, noi lo ringraziamo per questo. L'Italia ha dimostrato con i fatti il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina che non smetteremo mai di ribadirlo abbastanza e vittima di una brutale e ingiusta aggressione da parte della federazione russa, così l'Italia intende continuare a fare. Abbiamo ribadito al Presidente Zelensky il nostro sostegno a 360 gradi verso l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e oltre. La nostra nazione continuerà a fornire assistenza sia a livello bilaterale che multilaterale, continueremo ad assicurare la nostra convinta adesione all'applicazione rigorosa delle sanzioni, così come assicuriamo il nostro sostegno alla pace, purché sia una pace giusta. Noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa somigliare a un'invasione. Nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all'Ucraina e qualsiasi accordo di pace dovrà essere condiviso da questo popolo e l'Italia continuerà a contribuire a ogni sforzo che possa condurre verso questa direzione. Continueremo in accordo con i nostri principali alleati a fornire il sostegno necessario anche militare perché l'Ucraina possa arrivare, auspichiamo quanto prima, a un tavolo di negoziati in una posizione solida. Questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa. Da parte dell'Ucraina sarebbe terribilmente ingiusto ma sarebbe anche molto pericoloso per la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per tutte le nazioni del mondo. Alla pace si arriverà solamente se e quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili. Noi vogliamo approfittare per rinnovare il nostro appello a Mosca a fermare immediatamente l'aggressione, a ritirare immediatamente le truppe dal territorio ucraino. Noi siamo favorevoli a una soluzione diplomatica del conflitto e siamo ovviamente pronti a fornire ogni possibile assistenza a Kiev quando Kiev riterrà che ci saranno le condizioni per poter avviare un qualsiasi dialogo negoziale. Sosteniamo la formula di pace in dieci punti del presidente Zelensky che è stata proposta nei mesi scorsi. Riconosciamo le legittime aspirazioni europee dell'Ucraina, le sosteniamo. L'Ucraina sta combattendo una dura battaglia per la difesa dei valori europei di libertà e di democrazia, è un avamposto della sicurezza dell'intero continente europeo e quindi di ciascuno dei nostri cittadini. Noi per questo abbiamo scelto di avere un ruolo decisivo nel sostenere l'attribuzione all'Ucraina dello status di candidato all'ingresso nell'Unione Europea e continueremo a assicurare il nostro pieno totale sostegno per facilitare la progressiva integrazione di Kiev nell'Unione Europea, compresa l'assistenza che dovesse essere richiesta per le riforme che sono necessarie a questo percorso. Siamo pronti a sostenere un'ulteriore intensificazione del parternariato dell'Ucraina con la Nato, ne parleremo ovviamente nel vertice di Vilnius di luglio, sarà probabilmente il tema centrale. L'Italia fornisce ovviamente il suo pieno sostegno all'attuazione della Black Sea Initiative che è l'accordo sull'esportazione del grano ucraino, questione fondamentale a tutela della sicurezza alimentare globale. Continuiamo ad attuare interventi nel settore umanitario, programmi di sostegno per il ripristino delle infrastrutture critiche, sono stati inoltre avviati progetti di collaborazione in ambito sanitario in tema di tutela del patrimonio culturale. Noi lavoriamo a 360 gradi, continueremo a farlo e il nostro rapporto, la nostra amicizia ormai anche personale lo testimonia e ne è garanzia. Il messaggio che vogliamo ribadire oggi ancora una volta è un messaggio chiaro e semplice. Il futuro dell'Ucraina è un futuro di pace e di libertà ed è un futuro europeo, è un futuro di pace e di libertà e non ci sono altre soluzioni possibili per questa vicenda. Sono convinta che l'Ucraina vincerà e che rinascerà più forte, più orgogliosa, più prospera di prima. Credo che per una nazione che tanti anni fa è uscita dalla guerra e da quella guerra è riuscita a dare vita a quello che fu chiamato un miracolo. Oggi l'Ucraina possa ambire a fare la stessa cosa e noi faremo tutto quello che possiamo fare perché possa riuscire in questo obiettivo. Il popolo ucraino ha scelto di combattere e combatte perché crede nel suo futuro, perché vuole guardare a quel futuro. Noi insieme a loro guardiamo oltre questo conflitto, oltre il nemico, oltre l'invasione, oltre l'ingiustizia. Il modo migliore per guardare oltre è pensare già da ora a un'Ucraina libera e ricostruita perché ogni scuola, ogni ospedale, ogni campanile che noi ricostruiremo insieme in Ucraina saranno un pezzo delle fondamenta dell'Europa intera. Oggi Roma si conferma un alleato solido, affidabile, una nazione credibile e Roma si conferma una capitale di pace. Noi lavoriamo per la pace e guardiamo con speranza l'impegno del Presidente Zelensky e voglio per questo infine esprimere anche il sostegno e l'apprezzamento del Governo italiano per l'impegno di Papa Francesco e della Santa Sede. Il Presidente Zelensky dopo questo incontro si regherà in Vaticano per incontrare Papa Francesco e siamo molto contenti anche di questa iniziativa. Conosciamo e apprezziamo la vicinanza, la solidarietà e il forte sentimento di affetto del Santo Padre per l'Ucraina. Una giornata importante per questa delegazione, per il Presidente Zelensky ma anche per noi. E quindi siamo qui per ribadire che l'Italia c'è e per dire ancora una volta viva l'Ucraina, viva l'Italia. Grazie, grazie Giorgia. Egregio, cara Giorgia, io ti ringrazio per questa possibilità di trovarmi oggi in questo bellissimo Stato, grande Stato, con una grande storia e oggi ho cominciato con la visita al Presidente. Come hai detto, abbiamo avuto un bellissimo incontro insieme alla nostra delegazione e ho detto che sono qui con il mio team per poter ringraziare, per stringere la mano, ringraziando per i vostri aiuti, abbracciare tutti voi per aver dato il rifugio ai nostri cittadini, alle nostre famiglie, ai nostri bambini che soffrono a causa dell'aggressione russa. Vi ringrazio e noi non dimenticheremo in Ucraina mai questa cosa. Sono molto contento che abbiamo questi rapporti e grazie per il tuo sostegno personale. Oggi abbiamo avuto un dialogo molto proficuo e brevemente io vorrei dire che al primo posto è la sicurezza. Solo in sette ore in Ucraina da mezzanotte alle sette di mattino i nostri difensori e le nostre difensore hanno abbazzuto 17 droni iraniani che usano per distruggere le nostre infrastrutture. Altri droni kamikaze che ha portato anche alle morti delle persone, alle ferite, alle distruzioni. Questa è l'idea della guerra della Federazione russa. Sono ferite, sono distruzioni. E solo in sette ore è successo tutto questo. Ma non sono solo queste sette ore, noi viviamo sempre così, ma non sono venuto per lamentarmi ma per ringraziare per tutto ciò che voi fate per noi, per l'assistenza, per l'aiuto. Noi abbiamo scelto la pace. La guerra è adesso sul nostro territorio. Per questo voglio ringraziare il primo ministro per l'assistenza che voi ci offrite per salvare le vite delle persone, per ciò che facciamo insieme, per difendere le famiglie ucraine, i nostri figli, i bambini, le case dei nostri civili e le vite dei nostri militari. Forse qualcuno non ha capito cos'è l'aggressione russa. Forse pensano che non importa come finisca, chi vinca, ma noi parliamo della questione quando finalmente le bombe russe smettono a distruggere le comunità ucraine, quando ogni persona sarà sicura che la sua casa non sarà distrutta da un missile o una bomba. Signor primo ministro Meloni, voglio ringraziare per la visita che ha fatto. Era un segnale molto importante per tutta la società, per la sua percezione positiva, perché lei ha visto tutto con i propri occhi, tutto quello che è successo. Il precedente primo ministro, signor Draghi, ha anche lui visitato l'Ucraina ed era molto importante. Avete visto come ci difendiamo, quante distruzioni abbiamo in seguito a questa sanguinosa guerra. Io adesso mi rivolgo a tutti i leader politici italiani, tutti i rappresentanti della società civile, di visitare il nostro Paese, di parlare con la nostra gente, gente semplice, perché credo che quando vedrete con i propri occhi ciò che succede e cosa è riuscita a fare una sola persona, Putin, credo che finalmente tutti capiranno perché noi ci opponiamo a questo male, perché noi lottiamo per la vita. Ringrazio a nome di tutti gli ucraini, tutti gli italiani che con il cuore sincero aiutano a difendere il nostro Paese. Noi abbiamo discusso anche della sicurezza nel campo militare e ci sono diverse importanti decisioni sulla difesa del nostro cielo. Abbiamo parlato più volte della pace con Giorgia e l'Ucraina ancora l'anno scorso ha proposto la formula della pace per far finire la guerra per dare la sicurezza a tutta l'Europa, ma la Russia purtroppo ha risposto alla nostra formula della pace con i propri missili e con l'artiglieria perché non sono interessati della pace, non vogliono la pace, però la pace interessa a noi, interessa i nostri partner. Io questo lo vedo, lo vedo in Italia, la formula ucraina della pace sono dieci punti che nel totale eliminano le minacce alla pace. Sono dieci passi, passi concreti e voglio sottolineare che uno dei punti è il ritorno in Ucraina di tutti gli ucraini che sono imprigionati in Russia, tutti i bambini e tutti gli adulti che sono stati deportati a forza in Russia, per me è un tema molto importante, per tutti noi migliaia e migliaia dei bambini ucraini sono stati deportati sul territorio dell'aggressore. Noi abbiamo tutto, abbiamo oggi le informazioni sul 19.393 bambini concreti con i nomi, i cognomi e le date quando sono stati sottratti dalla Russia, ma il numero reale può essere decisamente molto più grande, almeno 200.000 bambini sono stati sui territori occupati dalla Russia ed ecco perché noi non sappiamo il destino di questi bambini. Noi sappiamo che il governo russo non solo divide i bambini ucraini dai parenti, ma gli insegna di odiare l'Ucraina e noi abbiamo bisogno di restituire prima possibile i nostri bambini, dobbiamo realizzare uno dei punti della nostra formula della pace. Poi il terzo punto che abbiamo discusso con Giorgia Meloni e la nostra interazione in Europa e Italia ha fatto un passo molto importante diventando più indipendente dal punto di vista energetico dalla Russia e questo permette di eliminare le possibilità di manipolazione, di pressioni della Russia nei vostri confronti e bisogna andare in questo senso avanti rendendosi indipendenti. E poi anche la questione delle sanzioni, grazie per le sanzioni contro l'aggressore, abbiamo discusso anche le questioni dell'integrazione europea, noi abbiamo, nonostante la guerra, faremo tutte e implementeremo tutte le decisioni e le raccomandazioni della Commissione europea, per noi è molto importante diventare pari all'interno dell'Unione europea e li ringrazio per tutto il sostegno. Io sarebbe bello se finalmente quest'anno si potesse pensare dei prossimi passi della discussione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Abbiamo parlato anche dell'interazione con la Nato e le decisioni politiche che prevedono l'interazione che oggi per l'Ucraina con la Nato è importante, oggi l'Ucraina fa praticamente ciò che avrebbe fatto un Paese Nato, qualsiasi Paese Nato difendendo il territorio difendendo i confini. Noi aspettiamo molto dal summit della Nato, aspettiamo la definizione dell'algoritmo dell'interazione per poter poi entrare nella Nato stessa. Aspettiamo i risultati dei risultati del summit Nato. Allora oggi voglio ringraziare per tutto il sostegno, auguriamo più possibilità di far restituire la pace e abbiamo parlato anche della ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra e in questo modo il business ucraino e italiano potranno trovare più possibilità di lavorare. Io ringrazio tutti quanti, grazie a Giorgia per questa conferenza, il 26 aprile c'è stata la conferenza sulla ricostruzione, grazie per la bandiera ucraina che io vedo sulle strade, sulle vie di Roma, grazie per l'invito, grazie all'Italia e gloria all'Ucraina. Buongiorno, signor prima ministro. Dobri den, presidente mojej velikojì сильноi krajini, jurnalistka Radiosvoboda Natalija Kudrik. Ja vas obiemai, obiemai na відstani e duże velika radiesce baciati, va siogodni tut. Moje zapitannia duże corotke. Vederla qui, lei ha parlato della partecipazione dell'Italia nel corso della ricostruzione dell'Ucraina quando la guerra è ancora in corso. Si può sapere cosa fa l'Italia, in che cosa vede il ruolo dell'Italia in questa situazione. Grazie mille, ci sono due piani, fast recovery plan e poi la grande ricostruzione dell'Ucraina. Oggi ho parlato del fast recovery plan. Noi siamo interessati che il primo settembre i nostri bambini vadano a scuola. Sì sì. Dunque continuerò in ucraino. Sono i russi. dunque quello che riguarda il fast recovery plan è molto importante perché c'è un grande lavoro, ci sono i rifugi che noi dobbiamo preparare per le scuole, per le università. Capiamo che noi abbiamo costruito una grande istruzione online, ma noi capiamo che per i bambini lo spazio sociale, la socializzazione, la frequenza della scuola, la possibilità di interagire con altri bambini, di mantenere il dialogo che poi si è perso durante il Covid e adesso oggi continua in Ucraina a causa dell'aggressione. Qui bisogna fare molto. Noi vediamo l'Italia qui come assistenza e qui parliamo non solo delle finanze ma della realizzazione tecnica, dell'assistenza tecnica perché ci sono tante scuole anche non distrutte. Noi dobbiamo difenderle perché non sappiamo dove la federazione russa sparerà domani. Ecco perché dobbiamo garantire questo spazio di istruzione. Poi l'energia. L'Italia ci ha aiutato a superare questo inverno, dobbiamo prepararci per il prossimo inverno. Noi non sappiamo se ci saranno gli attacchi aerei, ma noi viviamo in una situazione dove capiamo chi è il nostro vicino e purtroppo vediamo l'aggressione da parte di questo vicino che è svergognato e uccide, spara sulle scuole, sugli asili nidi. Ecco perché io mi concentrerei soprattutto su fast recovery plan, salute, istruzione, energia e anche l'aiuto dove ci serve sono le case per gli sfollati, per tutte le persone che hanno lasciato i territori temporaneamente occupati e anche la distruzione delle case dove è capitato un missile o una bomba. In questa direzione lavoreremo e quanto al grande piano di ricostruzione del nostro Paese voglio essere realista e la seconda fase vorrei che oggi noi potessimo tornare, far tornare la nostra gente alla vita. Buonasera Andrea Bonini, Sky Tg24. Presidente Meloni, lei ha nuovamente confermato l'impegno a sostegno di Chievo. Volevo capire se avete ragionato su eventuali nuovi passaggi a stretto giro, su eventuali rafforzamenti e in particolare per quanto riguarda la candidatura per l'ingresso nell'Unione Europea se avete immaginato azioni comuni per accelerare questo processo. Grazie. La ringrazio. Guardi, lei sa che l'Italia dall'inizio è stata diciamo uno dei Paesi protagonisti nel sostegno al riconoscimento per l'Ucraina dello status di candidato all'ingresso dell'Unione Europea, banalmente perché quello che oggi gli ucraini stanno facendo lo stanno facendo per l'Europa nel suo complesso. I loro sacrifici sono sacrifici che vengono fatti per difendere anche la nostra libertà e questo credo sia molto importante capirlo in una nazione che come buona parte d'Europa e anche spesso, io me ne accorgo e penso che i più se ne accorgano, vittima di una propaganda russa che cerca di inserirsi nel dibattito. La realtà, la verità è che l'Ucraina è vittima di un'aggressione e che l'Ucraina difendendo la sua sovranità e la sua integrità allontana la guerra dal resto d'Europa. Quello che loro stanno facendo lo stanno facendo anche per noi e credo che in questo contesto i passi in avanti enormi che il governo e il Presidente Zelensky sta facendo per garantire all'Europa le riforme che vengono richieste per accelerare questo processo dimostri anche quanto gli ucraini si sentano europei. Allora noi abbiamo ritenuto che fosse doveroso, non come formalità, sostenere questa candidatura ma accompagnare, ne abbiamo parlato anche oggi, il governo ucraino verso questo processo. Io ne ho parlato nei giorni scorsi anche con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e ho ribadito al Presidente Zelensky che siamo assolutamente a disposizione per aiutarli in questo paziente lavoro di riforme che, vale la pena di notarlo, viene fatto mentre si combatte. Quindi è uno sforzo enorme che secondo me va riconosciuto anche a livello europeo e quindi sul quale noi, che insomma certe dinamiche in Europa le conosciamo abbastanza bene, siamo pronti a offrire il nostro massimo supporto ma credo che sia un segnale geopolitico sicuramente necessario ma anche e soprattutto il segnale di un futuro per l'Ucraina fatto di pace, di libertà e di un futuro europeo per ringraziare questa nazione e di quello che sta facendo per tutti noi. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.